è successo un fatto strano avete perso la vostra amica si chiama giovanna giovanna ma dai voi l'avete accompagnata al convento giusto avete bevuto l'aperitivo poi è sparita quindi sono due le cose o lei si è dileguata però nel frattempo nel frattempo che la cerchiamo magari lei sta facendo le sue cose io volevo farvi vedere il cantinone questa qui è la sala del cantinone detta anche sala delle torture se voi venite con me seguitemi guardate in alto qua lì sono tutte cose diciamo reperti archeologici e quello lì appartiene al 12.000 avanti cristo questo invece 7.000 avanti cristo questi qui sono questi muri molto ti piacciono questi muri bellissimi stupendi e poi qui abbiamo giovanna oddio liberata e lei la sposa sì perché io stavo presentando come una persona che lei apparteneva al triassico si doveva sposare mi sembra mi sembra due milioni di anni fa poi il futuro marito è andata a comprare sigaretta non è più tornato vero sì è vero quindi è stato qua mi ha lasciato ci sarà un perché ci sarà un perché perché questa ragazza qui è monellina mi hanno detto dimmi di no senti come ti chiami giovanna giovanna mi fai una cortesia intanto che sei qua mi dai una bella bella smeriata con la lingua su giù mi metti l'antiruggine su l'antiruggine giù nel frattempo amiche vuoi non avendo più si accorta ma lei visto che da tanti anni che qui ha già preparato la camera da letto il soggiorno vero sai sì è tutto pensi ancora di sposarti allora attenzione se io ti dovessi aprire e liberarti esci da una galera ma sei sicura di andare in un'altra galera lo sai in un'altra con chi con marco che arriva da arriva da cremona sei contenta moltissimo moltissimo mamma mia che passione che passione e voi amiche siete contente contentissime bene possiamo anche andare rimani qua ti fermi qua senti Dave non ti fa niente se ne portiamo un piatto di ti piace il riso ti piace il riso ti piace il riso mezz'oretta piatto di riso acqua scusa gassato naturale l'acqua naturale vabbè te la ordiniamo ciao andiamo andiamo a ordinare senti noi ci fermiamo qua mangiamo tutti insieme ti va Dave per il momento è tutto lei era la sposa ma che se ne frega ci mangiamo bene bene c'è una fame c'è una fame anch'io